Ciao a tutti e benvenuti, già che ci siamo e siamo caldi salutiamo subito OneFootball OneFootball con i suoi contenuti, i suoi approfondimenti, le sue curiosità l'app di OneFootball è sempre disponibile nella descrizione di questo video c'è il link, scaricatelo, scaricare l'app di OneFootball è gratuito tutti i contenuti dell'app di OneFootball sono gratuiti non soltanto approfondimenti, notizie, curiosità ma anche e soprattutto highlights highlights, partite, serie A, campionati esteri e europei l'app di OneFootball vi sarà davvero utile, scaricatela, è tutta gratuita lo dicevo anche stamattina, intanto poi domani mattina torneremo a commentare le voci, i rumors lontanissimi, ipotetici di mercato e magari vi darò conto anche di tutto quello che mi avete scritto sul video di questa mattina io adesso ne avevo parlato questa mattina però vorrei entrare un po' più nello specifico la partita con la Roma è una partita importantissima, noi non dobbiamo come ambiente noi facciamo parte dell'ambiente, ci sono i protagonisti e c'è l'ambiente i protagonisti sono la nostra proprietà, la nostra società, la nostra dirigenza, il nostro allenatore, il nostro staff i nostri giocatori, quelli sono i protagonisti, noi siamo l'ambiente che in qualche modo rischia rischia di influire sui protagonisti, non credo in questo caso in questo caso lo escludo, però noi siamo l'ambiente e noi come ambiente in questo momento è giusto che siamo contenti per il recupero dei giocatori che erano infortunati, Calabria, Ibra, Leao, Rebic, tanta roba in molti ci dicono insomma che Leao, Rebic e Ibra al massimo erano i giocatori che avevano fatto pensare anche nella serie iniziale, perché noi in questo campionato, nelle prime 12 partite avevamo fatto 10 vittorie e 2 pareggi, in quella serie iniziale c'erano stati anche pronostici di scudetto in relazione al Milan e quindi alcuni osservatori dicono è per l'assenza di quei giocatori che invece non abbiamo più parlato di scudetto in relazione al Milan che ha perso punti, adesso è secondo eccetera eccetera è giusto essere contenti, però è giusto anche essere preoccupati perché è vero, non ci sono solo dei più, no? ci sono anche dei meno, i meno sono due, sono importanti, sono quelli di Chessi e Benassera è vero che quest'anno, è vero che quest'anno né Chessi né Benassera hanno mai raggiunto altissime vette di rendimento altissime vette di rendimento, però sono due della struttura sono due della squadra, sono due della rosa, sono due dell'impalcatura e poi su che sì potremmo anche dire 300 miliardi di cose ma quando non c'è si sente quindi dobbiamo essere preoccupati per quei due meno e dobbiamo evidentemente essere soddisfatti, felici per quei più, per quei recuperi che abbiamo avuto c'è stato un periodo dopo la sosta per le nazionali di novembre terrificante vigilia di Fiorentina-Milan Fittarebic, giorno dei convocati di Fiorentina-Milan un problema all'anca di Tomori Madrid, infortunio Giroud Genoa, Chia, Salernitana, Leao e Pellegri sono state veramente un ciclo di partite che ci hanno dato un cazzotto dopo l'altro e adesso da quella situazione al dio del calcio piacendo ne stiamo sostanzialmente venendo fuori bene però dobbiamo essere molto concentrati sulla Roma perché a Roma non sono concentrati sul mercato questo vi dico, a Roma sono concentrati su di noi se noi come ambiente andiamo alla partita concentrati sul mercato, distratti le prendiamo in un ideale ring virtuale ideale, non fisico evidentemente io vedo ad esempio questa mattina vedevo il romanista il romanista che è un apprezzabilissimo è caldo quotidiano che si occupa solo di cose giallorosse di cose della Roma il romanista che spesso fa delle prime pagine i titoli veramente da urlo il romanista aveva una cronaca capillare attenta, dettagliata sull'allenamento del Milan di ieri quindi la Roma è proprio mentalizzata sul Milan non vedo grosse cose poi per carità seguendo in verticale il Milan è probabile che abbia anche perché io abbia anche una visione distorta ma per quel che vale non vedo grosse cose di mercato attorno alla Roma mentre sul Milan ne vedo tanto di mercato e noi dobbiamo stare attenti a questo dobbiamo rimanere molto 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 concentrati su Milan Roma Roma che ha avuto qualche caso covid Roma che in base alla legge sul perché quando adesso usciamo dalla questione di Milan Roma usciamo dalla questione della Roma quando una persona ha un problema di carattere fisico un problema di salute un problema medico deve esserci il consenso della persona per dire in pubblico che quella persona ha qualcosa e cos'ha quindi quindi ci sono nella serie A italiana con molti casi covid che si stanno rincorrendo purtroppo in molte squadre ecco la fortuna del calcio è che i casi covid ai ragazzi che fanno calcio agli uomini che fanno calcio essendo giovani e forti sono brevi e non dannosi se non nella condizione atletica quando poi nella condizione fisica nella brillantezza fisica quando tornano a giocare ma insomma fino a prova contraria il covid non ha mai minato seriamente la salute di nessuno dei calciatori italiani ed europei quindi da questo punto di vista si tratta purtroppo di pit stop da pandemia delicati da osservare da monitorare scrupolosamente ma insomma pit stop da pandemia poi si torna in campo e ce ne sono tanti di casi c'è chi comunica nome e cognome chi no però insomma questo poi dipende dipende dall'interpretazione della legge sulla privacy da parte del giocatore da parte della società da parte del medico sociale dipende da n fattori il fatto è che c'è qualche caso covid nella Roma ma io sono sicuro che la Roma vorrà riscattare la parita d'andata perché noi dobbiamo stare attenti all'andata abbiamo vinto a Roma 2-1 dobbiamo rimanere in vantaggio intanto in uno scontro di rete dobbiamo fare di tutto per vincere la Roma ha vinto a Bergamo dobbiamo stare attenti la Roma viene a San Siro certamente per dare il massimo noi dobbiamo farci trovare prontissimi lo faremo come società come squadra come mister come giocatori ma dobbiamo farlo anche come ambiente non dobbiamo dare la sensazione nei nostri giocatori beh sì va beh ah c'è la partita ma noi pensiamo al mercato no intanto perché con la quarta ondata nel pieno ancora lontana dal picco vivere sport vivere partite di calcio è una fortuna ce la dobbiamo tenere ben stretta e poi perché e poi perché questa è una partita obiettivamente di ripresa del campionato noi dobbiamo è chiaro che se riusciamo a far bene le prime partite di ripresa del 2022 intanto entri bene nell'anno c'è un buon abbrivio non si scatenano polemiche deflagranti e che rischiano di essere dannose da assenza di che sia Ben Nasser che richiamerebbero altro mercato altre distrazioni altre voci altri rumors altre cose dobbiamo dare la sensazione il 6 gennaio del 18 e 30 di una squadra equilibrata solida mentalmente e con i piedi per terra che pensa alla partita che dà alla partita tutta l'importanza che la partita ha questo lo dobbiamo fare come ambiente e lo farà certamente la squadra ma dobbiamo noi parlando di noi stessi parlando di ambiente dobbiamo essere i primi noi a farlo per trasmettere a nostra volta l'atmosfera giusta alla squadra ciao a tutti ci vediamo domani mattina per la segna stampa